Dai, Fiumano del Borgo Incrociati, oggi tre gol, diciamo una partita che è finita all'inizio del secondo tempo e vi permette di restare in scia del San Bernardino e vi permette anche, penso, di staccare un bel po' di punti anche la terza per i play-off. Mi fai un commento sulla partita e dimmi cosa pensi su quello che ho detto, grazie. Niente, guarda, è un campionato difficile sicuramente, ma siamo determinati a salire su, quindi credo che non ci farmi nessuno, siamo forti e lo sappiamo. Va bene, dai, in bocca al lupo per le prossime partite, ciao, arrivederci.